Per essere veramente un critico devi conoscere, devi saper escrivervi, devi avere una solida cultura generale. Non ti puoi improvvisare il critico. No, no, non ti puoi improvvisare il critico, quindi ci vuole un bel bagaglio culturale, ma soprattutto ci vuole tanta passione. Però in mestiere ci vuole la passione, ma qui chiaramente è un po' come per la musica, come per l'arte, chiaramente ci vuole la passione, come per qualunque cosa. Ciao ragazzi, questa è Meta Agency e oggi siamo accompagnati Lorenzo e parliamo di cinematografia.